... Grazie Presidente. Come c'è detto? Mi metto qua, mi metto qua, mi metto qua, mi metto qua, mi metto qua. No, brutta qui la luce porta nei piedi. C'è a farlo io dentro. Come si trovi con la struttura? Benissimo. Un minuto con l'altra. Beh, certo. Chi è por di? Ah, di 90. Eh? Ma di 90. Perché sei por di? Ma fammi dire por di. Senti, sentite di Marco? Eh, siguelo! 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 Fuori! Siguelo! Esa è di afuera! E di afuera! E di afuera! E di afuera! No, no, no. Esa è! Siguelo! Vigantetta! Esa è mi! Amato a posto! Ci c'è. Com'è? Lasciate con bole! Paare perché равviate faccio stare, viva! Cuore la mano. Nananoro! Io le faccio in dessusa due. E' se! No! Viquently ha shoji!!! No, naah! Peg Ryan, ma la spaga che dovrè matare! No! 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 Video-prohi-prohi-prohi! Poi la mano! Vigantetta! Amato! Cazzo in mar willkommen! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti